Per me la libertà è un concetto bellissimo e sicuramente alla base di tutte le nostre costituzioni e anche alla base di ogni pensiero, ma è molto spesso difficile definire la libertà. Che cos'è la libertà per noi oggi in Europa? È sicuramente il poter vivere, viaggiare, dire, fare qualunque cosa si voglia. Cosa che non succede, succede da questa parte del Mediterraneo, succede in Francia, in Italia, in Spagna, in Grecia e non succede dall'altra parte del Mediterraneo. Se siamo tutti mediterranei, siamo un popolo molto forte, con grandi radici e che è abituato a viaggiare, quindi l'importante forse in questo momento sarebbe dare la possibilità di avere una libertà di pensiero, di movimento a tutte le persone che cercano di cambiare la propria situazione, quindi di spostarsi e vivere un'altra vita, provare a ricominciare da zero in libertà.